chiedo fregna ai nostri telespettatori in quanto è arrivata una notizia molto importante sul mio cellulare ecco dice che il nostro presidente del coniglio e volevo dire del consiglio giuseppe conte ha partecipato al congresso del cebu e non volevo dire al congresso dell'onu e ha ripetuto dieci volte la parola sorrento e no volevo dire la parola italia ma la cosa è pienamente giustificabile se si pensa che il nostro presidente del consiglio è un grande ammiratore del cantante pino tangiano e no volevo dire minore dano che a do fregna ho fatto un po di confusione fra il cantante pino tangio e il cantante minore dano adesso se volete avere un'idea di questa canzone di minore dano se non ve la ricordate chiedo fregna alla regia ma ve ne faccio sentire uno sfrangio e volevo dire uno straccio ecco la canzone è questa una canzone del 1988 che mino aveva presentato con grande maestria al festival di san roma adesso chiedo alla regia di bloccare un attimo questa canzone non abbiamo capito chiedo fregna eh chiedo fregna oh oh ti stiamo fratello sta canzone spacca spacca bestia con sta canzone oh oh l'altra sera l'altra sera ho conquistato one night sono andato là gli ho detto senti sta canzone che spacca bestia una canzone veramente forte ho detto fratella senti sta canzone e lei ha detto bella e allora io ti ho detto presa poi siamo andati un ristorantino ristorantino tranquillo abbiamo mangiato non ho bevuto perché io non bevo non mi piace bere e poi l'ho portato in un posto veramente romantico l'ho portata da footlooker ti estimo fratello